Vi ricordate quando ho girato insieme a Jorge Martin, pilota di MotoGP, sulla stessa pista, con la stessa moto, nello stesso momento? Io molto bene e ho studiato quei pochi giri che ho fatto insieme a lui molto attentamente Perché mi hanno raccontato tantissimo E tutto quello che un po' sono riuscito a estrapolare voglio condividerlo con voi perché è molto interessante Vi do giusto il tempo di iscrivervi al canale se vi stanno piacendo i contenuti quindi via Come si fa ad andare più veloce di un pilota MotoGP? Di sicuro molto difficile, possiamo perlomeno capire i suoi segreti e cosa può farci avvicinare a quel livello che veramente poche persone al mondo raggiungono Ricordiamolo, Jorge Martin è rookie dell'anno MotoGP e soprattutto si può dire uno dei 10 esseri umani più veloci al mondo su una moto Dati alla mano ha fatto top 10 quest'anno la prima stagione MotoGP Bene, la configurazione tecnica per tutti e due durante quei giorni lì a Erez era la stessa V4S di serie con ABS attivo Pirelli SC1 in versione standard sia all'anteriore che al posteriore 1,82x83 kg io come pilota e 1,68x64 kg Jorge Tra poco capirete perché ho inserito anche peso e altezza dei piloti Partiamo da quello che mi ha stupito di più della guida di Martin La percorrenza di curva e il suo stile di guida estremo per far voltare la moto in meno tempo Questo è l'esempio pratico Nonostante una traiettoria pressoché identica, nel momento dell'apertura del gas la mia linea tende ad andare per la tangente Quindi verso l'esterno Al contrario della sua che invece è maggiormente efficace e riesce ad andare più in linea retta e quindi a fare più metri Altro esempio, curva successiva con visuale dalla cam posteriore Freniamo simili ma nel momento che va dall'inserimento alla percorrenza curva Riesce a far voltare la moto molto più velocemente E di conseguenza rialza e dà gas poco dopo di me nonostante sia dietro di qualche metro E soprattutto nonostante una maggiore velocità di percorrenza a centro curva Parlando in termini veramente semplici, capibili da tutti, si può dire che la mia è una guida molto più stop and go La sua invece è molto più dolce e lineare stile Moto2 Che oltretutto si sposa molto bene in questo genere di circuiti molto raccordati stile Mugello Ma ovviamente c'è molto più da analizzare e adesso andiamo nel dettaglio Dalla guida e dalla posizione in sella Io molto più fuori col busto ma con il sedere più sulla sella Jorge invece completamente fuori dalla moto Come la MotoGP insegna Praticamente la cosa che ha sulla sella è semplicemente la coscia destra o appunto la coscia sinistra Questo gli permette di spostare i pesi all'interno della curva O meglio più efficacemente rispetto a me Facendo voltare sensibilmente meglio la moto Quindi voi vi starete chiedendo allora perché non lo fai anche tu? Perché è uno stile di guida estremo che o impari da giovanissimo o farlo tuo è molto complicato Senza contare che i risultati migliori con questo stile di guida si ottengono su una MotoGP Non su una stradale Oltre a questo comunque il fatto è che ti senti appeso alla moto Farci l'abitudine è molto difficile Io ho necessità di avere più chiappa sulla sella per sentire quello che mi comunica la moto E cosa sta succedendo alla ruota posteriore Per cambiare stile e spostarsi di tutti quei centimetri necessita di tanta pazienza Allenamenti e via dicendo I piloti della MotoGP potendosi allenare quanto vogliono col moto stradali E stando comunque 20 weekend a gara all'anno in moto Sono più in un certo senso facilitati Lo stesso vale come vi raccontavo per passare da una situazione di frenare con due dita A un dito o viceversa Quando si inizia a tirare l'automatismo è quello Ritorni subito a frenare con un dito Come appunto sono abituato io Ma questo inverno mi metterò lì cavoli e finché non mi viene naturale frenare con due dita Non mollerò il colpo Altro aspetto importante è la differenza fisica dei due piloti E di conseguenza le modifiche che devono essere apportate alle moto Per fittare bene un pilota leggero e un pilota pesante Alto o basso Fondamentale per far funzionare bene le sospensioni e non mandarle mai in crisi In questo caso avevamo un range d'azione limitato rispetto a quello che ci serviva Soprattutto a me essendo moto di serie Ma vi faccio un esempio visivo per farvi capire meglio Osservate queste due foto durante una staccata molto violenta lì a Erez Io ho la forcella completamente a tampone Non ce n'è più Cioè è tutto sulla gomma Invece Martin ha ancora parecchi centimetri di escursione Cosa comporta questo? Da dritti semplicemente avendo più peso si fa più fatica a fermarsi Prendete una macchina con 5 persone dentro e un'altra con solo il guidatore Provate a farle frenare e vi accorgerete semplicemente che quella con meno persone dentro ci mette meno tempo a fermarsi Stesso identico discorso Ma comunque rigido le sospensioni e altre cose si può avviare a questo problema Il disastro vero è l'inserimento Non avendo più centimetri di forcella che possono copiare l'asfalto Tutto il lavoro è sulla gomma Quindi è molto più facile che forzando si chiuda l'anteriore Lasciandoci brutalmente con il sedere a terra Come risolvere il problema? Inserendo molle più dure adatte al mio peso Che mi sostengano in staccata e che permettono alla forcella di respirare Quindi nonostante la grande forza che andiamo ad applicare in staccata Doveva sempre avere quei pochi centimetri che permettano alla forcella di avere quel minimo di movimento Per copiare l'asperità proprio nell'ultimo momento di inserimento in curva Che è quello più critico ovviamente Questo comportava una grossa fatica per me in quei momenti della guida Difatti non ditelo a nessuno ma se sentite bene in qualche clip C'è stato qualche rumoraccio strano di quasi chiusura con pedane che toccavano Tornando a noi In quella fase della guida ero molto più lento Perché dovevo aspettare che la forcella tornasse su e respirasse un attimo Per poi farla voltare e riaccelerare Perché fino a quando la forcella non fa da questo a questo La moto non volterà mai Vi faccio vedere anche un bel video in dettaglio Per farvi capire visivamente di cosa stiamo parlando Altra cosa che mi ha stupito veramente tanto è l'utilizzo del gas Molto meno on off rispetto a quanto mi aspettasse Anzi come avete visto dal video con Martin Lui stesso mi diceva che era meglio appoggiare il gas subito per fare un pochino di metri E fare percorrenza Anche se solo apri un po' Sai non chiudere Ti fa fare metri Lì ti prendevo tanto Rispetto a creare una traiettoria spigolosa Fermandosi a centro curva Questo è un qualcosa su cui lavorerò tanto durante l'inverno Perché ti permette di essere veloce anche quando il grip posteriore va a calare E soprattutto le gomme stanno raggiungendo dei livelli di grip e aderenza così elevati Che bisogna in un certo senso tornare a sfruttare di più la percorrenza Rispetto allo stop and go come un po' di anni fa Ovviamente sto parlando con i 1000 di cilindrata stradali barra stock Ricordiamolo Le moto che guidiamo noi in gara Nel National, nel Cive, eccetera Simil stock Hanno attorno ai 210-220 cavali alla ruota più o meno Le MotoGP 300 È come passare da un 600 a un 1000 Ci sta assolutamente che lo stile cambi Nonostante siano la stessa cilindrata Ma ovviamente nella MotoGP è tutto molto più estremizzato Infine la celeberrima gamba fuori Ci ho fatto il video se volete andate a vederlo Ve lo lascio qui sopra Proprio a causa di quel video dove dicevo che non lo usavo per svariati motivi Le persone quando hanno visto la presentazione di Ducati Dove facevo un po' lo stupido gamba fuori, traverso, impennate e via dicendo Mi hanno chiesto il perché Appunto perché serve per dar maggior controllo alla moto in staccata barra derapata Con lo sliding per così dire Cosa che con una moto di serie non settata per se stessi Quindi essendo molto pesante Tanto trasferimento di carico, tanta facilità nel traverso Se avete visto durante la stagione Non mi è mai capitato una volta di avere la moto che si muovesse di tanto così Per freno motore, passetti fatti ad hoc e bla 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 Ripeto è tutto spiegato molto più nel dettaglio nel video dedicato che vi ho messo qua sopra Al contrario Martin che arriva dalla MotoGP Dove le frenate sono molto più intense Mantiene l'abitudine della gamba fuori Anche quando va a utilizzare moto non prototipo Ma secondo il mio modesto parere La sua differenza nella guida sono nelle cose analizzate prima Assolutamente non per la gambetta fuori o meno Gestione del gas, distribuzione dei pesi sulla moto e come si muove È uno spettacolo vederlo dal vivo Bene, spero che questo spiegone vi sia piaciuto A me è servito tantissimo analizzare questi video insieme a Martin Perché mi hanno dato un qualcosa sul quale potermi migliorare e analizzare durante il periodo invernale Adesso capite perché è importantissimo avere dei camp come la VR46 O in Spagna come fa Marquez con i fratelli, il Rins e via dicendo Ma è importantissimo mettersi insieme tra fuori classe E imparare e assorbire il più possibile gli uni dagli altri A quel punto il livello fa questo Ed è una gran fortuna Quindi quando si può cerco di sfruttarlo anch'io Detto questo ragazzi Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, tasto qui sotto Canale abbonati, non incazzatevi È solo per robe un po' più borderline Insomma che non posso mettere qui sul canale principale Quindi se siete lo zoccolo duro e volete vedere proprio tutto, tutto, tutto Abbonatevi Costa come due caffè Quindi come al solito Gas e ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao